Con il completamento della giunta regionale a cinque assessori e l'assegnazione definitiva delle deleghe ai componenti dell'esecutivo, può finalmente prendere il via il governo Toma. Il governatore ha mantenuto alla propria competenza alcuni settori strategici per la vita della regione, tra questi anche la sanità a comparto che tanto ha fatto discutere durante la stagione targata frattura. Il nuovo inquilino di via Genova intende vederci chiaro soprattutto sul processo di eventuale integrazione tra Cardarelli ed ex Cattolica. Ho mantenuto talune delle che considero a contenuto più tecnico, quindi meno politico e più tecnico, anche se la programmazione in realtà ha molto di politico. Sono deleghe sulle quali intendo lavorare in maniera serrata, una di queste è proprio la delega alla sanità. Integrazione Cattolica Cardarelli è una ipotesi che in questo momento è al vaglio della struttura regionale, è al vaglio anche mio. Ho avuto un primo incontro con il vertice della fondazione Giovanni Paolo II. Ci siamo confrontati sulle strategie che possano far migliorare in maniera sinergica la sanità, il bisogno di cura dei cittadini molisani. Stiamo ragionando, ma tutto è implementabile, tutto è modificabile, tutto è affinabile. Sempre con l'obiettivo di dare ai nostri cittadini e a quelli che vorranno soffrire della nostra sanità il servizio migliore. Tra le materie che il neo governatore ha trattenuto per sé c'è anche la comunicazione. Settore chiave sotto due fronti, quello dell'informazione alla pubblica opinione sulle attività regionali e quello dell'accesso alle opportunità per imprese cittadini, soprattutto sul piano dei progetti, delle opportunità e delle misure di sostegno e crescita europee e nazionali. Un settore totalmente ignorato dal predecessore frattura. L'intenzione mia è quella di far partecipare in qualche maniera i cittadini all'azione amministrativa che noi portiamo avanti. I bandi europei prevedono una quota destinata appunto alla comunicazione. Noi, almeno questo è l'intentimento, ma così dobbiamo fare, sfrutteremo i bandi europei anche in questo senso. Sfrutteremo quella quota finanziaria destinata alla comunicazione proprio per comunicare, proprio per partecipare ai cittadini molisani, a tutti coloro che vorranno sapere che cosa si fa in questa regione, per partecipare tutta l'attività che noi svolgiamo, principalmente quella sui fondi comunitari.